Oggi facciamo il rituale per spawnare il grill di Minecraft. Fate attenzione con questo materiale perché non si può spaccante. Quindi posizionate questi quattro blanchi qua. Bruciate i semini se arrivano. Date il piccane in testa ad una scrofa. Scrofa vieni qua. Spalmate il legno. Servono quattro di redstone come ho in mano io. Questa è la redstone. Facciate così. Mettete la scrofa qui. Vi serve l'acciarino. È la fase propiziatoria questa. Bruciate le scrofe se si avvicinano. Deve bruciare all'inferno. Ok. Oh spiriti del male noi vi invochiamo per mangiare. Vedete ora i maiali si avvicineranno a voi purtroppo. Oh spiriti maligni noi vi invochiamo. Potete mangiante ora. Gli spiriti propanzi sono stati maligni con me purtroppo. Hanno spawnato anche un spiliglin. Ora venite con me. Potrebbero succedere strani avvenicenti in questo Menda. Fate tanta amenzione. La amenzione è importante in questi chasi. Ricordatevi sempre di anticipare il mostro. Ho trovato qualcosa che sembra una pu... Sembra uno spalmato strano questo. Questo è il simbolo degli illuminati. Guardate. Posso... Sono illuminato ora. Gli illuminati mi daranno la via. Ho trovato altre scrofe. Prendetele perché dovete mangiare con il vostro piccone inederite che spawnate nel mondo maledatto. Queste pecore mangeranno la vostra erba preferita. Poi non potete più utilizzare l'erba. Lo spirito di Zazzaruga ha ucciso me stesso. Sto per essere ucciso da Zazzaruga. Mi serve subito dell'acqua. Ok. Sono stato despawnato. Perfetto. Oh pecora maligna. Vieni qua. Ok. Vede. Questa è colpa di Zazzaruga. È tipo un dia che praticamente sta sopra sopra nel paradaino. Il paradaino praticamente è un posto dove Zazzaruga preferisce banchettare con le sue vittime. In questo caso Zazzaruga è il daino che banchetta con me. Io sono il suo corpo. Il daino. Capito? Mi raccomando dovete scappare da Zazzaruga. Sono molto preoccupato. Zazzaruga può essere qua nei pressi vicinanzi. Pronto Zazzaruga mi senti? Zazzarra? Zazzarra ventetto? Ascoltate le scroffe. Io non sento niente. Uccidetele. E uccidete anche le pecore mi raccomando. Queste pecore devono essere uccise. Questo è Zazzarunga forse? O forse un suo scagnozzo può essere? Stiamo attenti a Zazzarunga e ai suoi scagnozzi schifosi. Questo mondo sta diventando sempre più strano e inquemante. Ci sono 28 folletti dell'aldilà che stanno essendo marciati sopra le nostre teste. Le nostre teste sono praticamente cappellanti. Non camminate alla sprovvista nelle foreste antiche del Guatemala. Io invoco gli spiriti dell'aldilà perché Zazzaruga venga sconfitto da me. Zazzaruga questa è la sua vendetta. Accidenti a lui. Dovete scappare immediatamente da questo mostro. Dio andatevene via da Zazzaruga. Prima che lui vi possa fare del male. E ora con queste ultime mie parole vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi video. Che se vi piace io farò così ovviamente. In modo molto Zazzaruguesco. E in modo corrente. E lasciate link se volete altri video del genere. E lasciate un commento così posso capire se voi volete davveri questi tipi di video. Grazie. E maledetto Zazzaruga e i suoi scagnozzi. Grazie. Grazie.